L'emozione di un atto che parte dal significato della scelta e colmina in ciò che arricchisce un momento, una situazione, un incontro. L'emozione di scegliere qualcosa che riassume l'essenza, il desiderio, il gusto, l'emozione di scegliere ciò che racchiude il significato dell'impegno, del tempo, dello spazio, della qualità e della natura. Gilardi Selezioni è dove offriamo l'emozione attraverso l'eccellenza del gusto. Lungo tutta la penisola italiana il nostro supporto commerciale è al servizio del cliente con le migliori selezioni e presso il nostro showroom il visitatore è accolto in un luogo unico dove l'ambiente e lo spazio sanno ospitare come a casa, visionando l'ampia scelta dei prodotti. Ogni bottiglia racchiude una storia e il gusto ne è l'espressione massima. L'amore per il nostro lavoro risiede nella ricerca del prodotto migliore, nella selezione messa in pratica anche attraverso l'attività di blind tasting. Perché la scelta è importante? Perché l'etichetta, il prodotto, la giusta collocazione, la selezione accurata, la provenienza internazionale dai tanti paesi del mondo sono i fattori che ci caratterizzano e che hanno posto la ghilar di selezioni a un livello importante sul mercato. Siamo una famiglia e siamo una squadra. Abbiamo messo la qualità del prodotto e l'attenzione nei confronti del cliente al primo posto e svolgiamo la nostra attività con la filosofia che ogni azione sia una componente dell'emozione che offriamo. I nostri moderni e forniti magazzini di oltre mille metri quadrati, strutturati per ospitare i migliori prodotti con zone a temperatura controllata, ospitano le attività di ricezione e presa in carico degli ordini che accuratamente vengono preparati per la spedizione. L'esperienza pluriennale e il costante impegno ci hanno portato a vantare oltre 2000 clienti su tutto il territorio italiano. I nostri clienti che si rappresentano altresì in figure professionali come i sommelier, i barman, gli chef trovano in noi la più ampia scelta e consigli accurati. Il ristorante, che luogo incantevole, dove i sapori trovano casa, dove l'etichetta esprime il piacere della condivisione e dove giungono al tavolo prodotti eccezionali per vestire l'emozione del gusto. La consulenza che i nostri esperti offrono nei confronti del cliente è importante al fine di proporre la selezione di prodotti migliori. La degustazione e la scelta fanno parte delle azioni che consentono al cliente di trovare ciò che rappresenta a se stesso, la propria realtà professionale, la propria identità e la propria immagine. Dove l'ospite, il cliente, come il ristorante e il bar, possono trovare proposte diversificate, originali, esclusive e interessanti, che arricchiscono l'incontro e il momento. Noi di Ghilardi Selezioni importiamo e distribuiamo eccellenze, seguiamo il nostro cliente in qualità di esperti per il migliore consiglio, per l'identificazione del prodotto adeguato al momento richiesto, alla preferenza, alla destinazione e lo guidiamo verso la scelta. La nostra struttura offre circa un migliaio di referenze provenienti da oltre 30 nazioni del mondo. Visitando la sezione e-commerce del sito ghilardiselezioni.com il nostro cliente esprime la scelta tra i tanti prodotti disponibili e al proprio ordine diamo tempestivamente la giusta attenzione per la preparazione e la spedizione affinché giunga rapidamente a destinazione con la migliore cura. Ghilardi Selezioni è una boutique. Ghilardi Selezioni è l'accademia del gusto. All'interno dei nostri spazi svolgiamo attività altamente professionali di training e formazione, dove offriamo attività di degustazione e di preparazione dei prodotti, ospitando esperti di settore, specialisti nell'eccellenza del gusto, personalità e i clienti. Ghilardi Selezioni. Assapora il mondo nel tuo bicchiere.